inserisco l'autopilot e voilà ok quindi adesso l'autopilot ti ne è stato attivo? si, sono autopilotato ok, allora adesso il traffico dietro non ce n'è io mi metto in fianco a te ti sto dietro, quindi sono più o meno nel tuo angolo cieco se tu provi a mettere la freccia per fare i cambi di corsia cosa ti dice la macchina? in questo momento allora metto la freccia mi dice soltanto di mettere la mano sul volante dovresti venire un po' più avanti prova un po' venire un po' più avanti adesso io provo a invadere il tuo spazio quindi ti metti in una posizione dove non... ok che dice? non mi lascia non ti lascia fare la manovra adesso me la fai invece adesso si è un po' vicina devo dire margine di sicurezza, cioè il limite di distanza di sicurezza è un po' risicato torno di là se vuoi lo riproviamo scusa? torno di là e lo riproviamo se vuoi si, si ok allora adesso diminuisco un po' la velocità se vuoi così un po' più di margine ok prova a camminare corsia vieni un po' più avanti vieni un po' più avanti vieni un po' più avanti ok sono più o meno a ore sette rispetto a te adesso ti vedo piena dell'inquadratura della telecamera adesso provo a fare la manovra mette la freccia l'ho fatto si taglia un po' la strada devo dire eh è un po' cattivo eh tu dici che l'ho migliorato si ecco prova a rientrare si un po' più avanti ancora quindi dove ci sarebbe il rischio di una collisione perché adesso tu hai tagliato la strada e mi va bene semmai ti suono se sono un guidatore molesto ecco per esempio io adesso sono fisicamente nel tuo spazio il il mio muso è dietro alla tua coda i sensori i sensori ti sta rilevando ok proviamo vediamo cosa succede no non mi lascia non ti lascia no perfetto adesso io ti sorpasso vediamo un po' la freccia rimane attiva la tua freccia rimane attiva adesso che vai via ok vediamo un po' ok adesso mi lascia ok 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 passami pure ecco su questo lo stiamo facendo intorno ai 90 km l'ora sotto i limiti di velocità locali esattamente con poco traffico poco traffico c'è qualcuno che ci segue sarà una spia alla età n'ho di dietro che c'è si è seguito per tutto il tempo